Ciao bimbi, ciao mamme, ciao papà, come state? Oggi è un giorno molto speciale, oggi è la festa del papà, quindi innanzitutto auguri a tutti i papà. E bimbi, vi siete ricordati di fargli gli auguri? Sicuramente sì, e sono sicura che gli avrete fatto anche un bellissimo regalino. Adesso se vi va, in occasione della festa del papà, leggiamo una storia per vedere quanto i papà sono bravi a fare tantissime cose. I papà sono bravi a... I papà possono insegnarti ad andare in bicicletta, possono fare un pupazzo di neve con te e preparare una deliziosa torta per il tuo compleanno. I papà possono aiutarti a lavorare in giardino, possono portarti in spalla quando sei molto stanco, possono così forti i papà e curarti quando sei malato. I papà possono guardare il tramonto con te, cucire il bottone un po' lento del tuo sacchiotto e consolarti quando sei triste. I papà possono mascherarsi ad Halloween, aiutarti a fare il bagno al cagnolino e giocare con te al parco finché non si è stanchi. I papà possono leggerti una storia della buonanotte, rimboccarti le coperte e darti il bacio prima della nanna. Ma più di tutto, i papà possono darti tanto, tanto, tantissimo amore. Spero che la sorella vi sia piaciuta tanto. Ancora auguri a tutti i papà, tutti, e ricordatevi che tutto andrà bene. Un bacio, ciao!